ci siamo quasi quando vuoi una mano dimmelo pronto per l'isola insomma l'isola dai metticene un altro pezzo di carta pa sai dai che prende dai con la legna bella fredda che fai? la casa va a fuoco pensavo fosse un gioco e adesso tutto va a fuoco mi manchi io dovrei a fuoco pensavo fosse un gioco e adesso tutto va ommorino dovrebbero tutti far così ma non può vedere che cosa succede I si 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 il amore mio brava Grazie a tutti